Oh, sì, stiamo qua. Dai, ti aspettiamo. Oh, sta arrivando. Hai studiato la parte. Eh certo, ma per chi mi ha preso? Eccola, eccola. Oh, ci siamo svegliati, eh? In che senso? Abbiamo fatto le ore piccole, eh? Non capisco. Mortacci, se ti ricorda un cazzo, eh? E te credo, sei bevuto pure il tevere. Il tevere? Oh, e dai, ieri hai fatto lo schifo. Parevi in turbo benzina per quanto hai bevuto. Io ieri sono andato a lette 10, ne so pure visto Super Quark. Sì, Super Quark. Ma io ieri sera non so uscito, ma che davvero? Ma sa, ma che ti sei rincoglionito? Abbiamo mandato un messaggio alle 11 per dirti che ti venivamo a prendere. Hai fatto il leone. Cazzo, deve essere vero. Com'è possibile che non ricordo nulla? Senti, quei soldi poi quando me li puoi ridare? Soldi? Un ce proprio va. Ecco perché fa tanto ormemento dalla situazione. Vecchio ombriacone. Dai, sul serio, quando me li puoi dare? Hai di nuovo bevuto troppo senza potertelo permettere. Ora dovrai chiedermi quanto ti sei fatto alzare e qualunque cifra dirà dovrai riedergliela. Quanto? De quanto si parla? Guardalo come c'è prova. Ortacci tua, dai, sai 107 che ti è alzato ieri, dai. 107. 107. Oh, comunque è un eroe a beve questo. Sì, che i soldi mie. Mi arriva 102, ti è? Dai, stiamo pace così, eh. Dai, il cocktail te lo alzo io. Devi una birretta? No, raga, ho finito di disorbire. Vado a casa. Ah, ma dai, lo alziamo noi, se vuoi. No, eh. Tanto ho già esagerato ieri, pare. Vado a casa. Che baccala. Oh, dai, chiama Carletto che spenniamo pure a lui. Carletto? Mamma? Mamma? Che c'è? Legamo al letto. Stretto, eh. Stretto. 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 Grazie a tutti.